Sarà il medico legale Rafael Mazlum ad effettuare l'autopsia su Luisa Scapin, la 62enne di Villa del Conte mancata giovedì all'ospedale di Padova, a seguito delle gravi lesioni riportate per l'incidente avvenuto lunedì nella ditta tessele di San Giorgio in Bosco, dove lavorava da anni. Il procuratore giunto, Valerio Sanzani, ha disposto che si svolga l'esame autoptico solo dopo il nulla ossa del magistrato. Sarà fissata la data dei funerali per l'ultimo saluto alla donna, che è rimasta impigliata per cause in corso di accertamento con il camice da lavoro nel macchinario a Volgicavo, provocandole una sfissia meccanica da soffocamento. Intanto la famiglia ha dato il consenso per l'espianto degli organi.